Ecco qui il mio nuovo regalo di mio compleanno fatto dalla mia moglie a Spiderman, vedete che bella, vedete che bella. Anche dentro sono molto spaziose da mettere dentro, ragazze, i miei amici, i miei follower, tutto il mio team, saluto Vede e Vampiro, il mio team, i ragazzi speciali, tutti domani, la mia laia 21, ecco qui il mio regalo della mia moglie e anche la maglietta, vi faccio vedere, la maglietta di Enrico Pover, scusate ma non riesco a farlo vedere bene, ok, ecco. Ciao a tutti, a domani, vi voglio tanto bene, un bacio.